Ragazzi, finalmente abbiamo vinto una sfida del demone di Minecraft, il demone Orez Quindi, sono entrato nel mondo della ipervanilla e guardate cosa ci ha regalato Saluto Annalisa, Giulie e Cristiano Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nel mio video Iscrivetevi al canale col tastiero, su questo attivate la campanella su tutte quante notifiche E superiamo i 4.000 mi piace per un nuovo video del demone Orez su Minecraft Mi ha regalato ben 30 livelli 20 diamanti e uno stack di lapis, perché ovviamente essendo che era la sfida dello scavo praticamente Mi ha dato tantissimi oggetti di un valore incredibile Quindi, oggi miglioreremo la nostra armatura per rendere l'armatura di Minecraft più potente che ci possa essere Che possa esistere, quindi voglio che superiamo i 5.000 mi piace ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Io direi, iniziamo subito, perché lì in fondo c'è la nostra bellissima Enchantment table che ci sta aspettando Quindi muoviamoci Anche perché dopo abbiamo ancora un'altra sfida del demone Orez da affrontare Ok, allora facciamo una cosa Non preoccupiamoci di questi problemi E entriamo direttamente in questa zona Lo so ragazzi, devo migliorare veramente tante cose intorno a lì per vanilla Però per livello estetico, lo so molto bene, tipo questa zona Migliorare attorno alla mia casa Sistemare anche il bunker Fare una bella zona anche per la farm C'è tanto lavoro da fare Ma fidatevi, siamo tanto impegnati in questo periodo Comunque, allora Andiamo direttamente qua Anche se mi potrebbe servire anche una crafting table Quindi qua facciamoci una bellissima crafting table Poi dovrei anche andare a prendere l'envy che ho direttamente a casa mia Dopo la prendiamo così possiamo unire tutto quanto Poi, 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 qua ci dobbiamo ammettere che dobbiamo fare anche una chest di appoggio Anzi, facciamone un paio Che magari se impariamo a craftare le cose è meglio Quindi uno e due E qua mettiamo gli oggetti inutili Quindi tutta quanta questa roba qui che ci può servire a niente Abbiamo anche quattro diamanti in più perché ci servivano Cioè ci servivano Li abbiamo trovati negli scorsi video Quindi comunque ce li avevamo E mettiamo via anche la cobblestone Partiamo subito allora Con questi 24 diamanti possiamo farci sicuramente un'armatura E questa qui è la cosa più importante che riusciamo a farci Quindi uno e due Riusciamo a farci esattamente un po' Cioè un po', oddio Il doppio dell'armatura che già abbiamo Quindi qua abbiamo protection 1 Unbreaking 1 Project protection 3 E unbreaking 2 È da tenere conto questa cosa ragazzi Quindi partiamo subito dalla chest bit Che è la cosa più importante Partiamo da un protection 3 Un fire protection 1 Un protection 1 Sperchiamo tre livelli Facciamo subito il protection 3 Vediamo cosa ci dà in più Dai ragazzi però siamo sfortunati Perché minecraft poteva darci anche magari Un qualcosa in più Perché assolutamente se inciente l'ultimo livello Ti regala sempre qualcosa Poi portiamo Mettiamo anche i gambali E vediamo cosa ci dà Protection 3 anche nei gambali Vedete? Ora c'è l'altro protection 3 E unbreaking 3 Questa è una cosa veramente molto buona Qua abbiamo un protection 3 A sto punto Li togliamo E ci mettiamo direttamente questi Qua poi possiamo unire le chest plate Vediamo poi con la testolina Cosa ci può dare minecraft Ci dà unbreaking 1 E protection 1 A sto punto diamo un occhio Qua abbiamo protection 1 Già potremmo far sì Che facciamo un'armatura Con protection 2 Di testa Quindi vediamo protection 1 Protection 1 Li uniamo E facciamo protection 2 Poi vediamo Quei piedini Che è l'ultima cosa Che ci è rimasta Vediamo cosa ci può dare Ci danno Deathstrider 1 Protection 1 Nei piedini qua Ciao De C'è Marci? Ciao Ciao Marci Ciao Marci Ma cosa vuole Marci? Sarà da qualche parte qua vicino a casa mia Non lo so Allora Facciamo così comunque Mettiamo qua i piedini E Ah sì Dovemmo controllare cosa abbiamo qua Unbreaking 2 Cavolo i piedini ci hanno dato un sacco bene Eeeh Facciamo Deathstrider 1 Eeeh Deathstrider 1 Dai che comunque può essere vicino Anche Federfall in 3 Qua siamo stati Veramente Molto fortunati Perché unito a un protection Questi sono dei piedini Veramente incredibili Facciamo una cosa Diamo un occhio anche Se abbiamo dei libri E la Envil Qua nella zona della casa Che sia ormai tutta quanta smontata Dovrei rifarla E potrebbero servirmi E qui Ah qua abbiamo anche il totem dell'Undying Non perdiamolo Qua abbiamo Del ferro Che comunque ci potrà servire Eeeh Poi altro non lo so Andiamo qui E qua dovremmo avere la nostra Envil E dei libri Dov'è la Envil? Eccola qua Abbiamo l'Envil Abbiamo anche 8 libri Di qua abbiamo qualcosa No Di qua nient'altro Ok allora Facciamo in fretta ragazzi Perché secondo me Il Demone Orez Potrebbe disturbarci Da un momento all'altro E non va affatto bene Questa cosa Abbiamo ancora 26 livelli Quindi a questo punto Vorrei mettere il lapis qua dentro E enchantare più libri possibili Qua abbiamo un'efficienza 2 Poi qua abbiamo Un piercing 1 Lo prendo Perché tanto non ci può dare più di altro Qua cosa abbiamo? Un power 1 piercing 2 Devo imparare cos'è questo piercing Che ancora non lo so Prendiamoci comunque il power 1 E togliamocelo dalle scatole Efficiency 1 Loyalty 1 Si è messi bene con il tridente Quindi non ci serve un loyalty Qua abbiamo un breaking 1 Silk touch Silk touch non mi interessa Quindi un breaking 1 Qua abbiamo un smite 1 Bene a far troppo Ci prendiamo lo smite Il demone sta aspettando Mi dice Steph Va bene arriva un black protection Power 1 Smite 1 Power 1 Ok Allora Ragazzi abbiamo fatto super infetta Perché il demone ci sta aspettando Piazziamo qua la Envil E uniamo la nostra armatura Velocissimi eh Allora qua Doviamo mettere la nostra cespita E uniamole Poi dobbiamo unire i nostri piedini Costa 12 unire i piedini Ma voi siete matti eh Qua uniamo le testoline 4 E i gambali costa 9 Ok Siamo un po' a corto di livelli Quindi comunque Mettiamoci la nostra armatura nuova di pacca Questi gambali qua sono una bomba E poi ci mettiamo i piedini nuovi Ragazzi Stiamo lavorando Per creare l'armatura di minecraft Più forte che si possa mai creare Ma ora Andiamo dal demone Orez Se si rivede Ah è tornato il demone Come va? Aia È tutto bene dai Ma scusatemi Io sono Eh io sono stato fortissimo Nella sfida degli or Ragazzi Sto parlando il demone Guardate che poi ci fa fuori tutti Nuova sfida Io non ci farò Sfida Più o meno Più o meno Oggi vi sfugierete in un nascondino Qui nella mia base L'ultimo che troverò vincerà Ok Quindi è proprio una sfida tra di noi Che si nasconde meglio Ma Mi piacciono così tanti i nascondini Quindi Tu sei sempre bravo nei nascondini Quindi oggi non puoi sbagliare Io vado Ma ne avete tutti i partiti Ah ma si parte già Uuuuh Io me ne vado 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 Va bene Mi nascondo demone Orez Sì 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 Il posto ragazzi Stranissimo Bellissimo Nascostissimissimissimo Ma quanto tempo abbiamo Secondo voi Ma non lo so Io mi sono già nascosto E mi nascondino E' veramente ridicolo Io sto correndo Non so neanche io dove Perché faccio schiva Nascondermi Ragazzi Io vengo Questa sfida nascondino rimango fermo qua e guardo la videocamera tutto il tempo allora io mi sono nascosto Spero di si ricordate di cittare ragazzi Secondo me Nascosti sì 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 ma non è arrivando Come posso dirtelo Vi troverò domani mi trova al demone domani volare quindi si muove veloce nell'isola a può volare Lui non so se anche tipo raggi x stile superman che nel Il mio nome è realmente nascosto perché se non è una posizione strana quindi non idea se la cucciarmi funziona Io voglio Ancora più strano Guardare tutti i video e decidere qual è il miglior nascondiglio Ma il mio non lo possono vedere Trovata Mi ero nascosto dentro la montagna ho lasciato solo un buchino Ragazzi già perso mette le portate in alto non posso più scendere No E' stato cattissimo Il secondo che trova secondo me forse è Fere Ti ho trovato Fere? Uffa! Io ero su una scala a festa cucciata Allora aspetta Fere vieni qua a farmi compagnia va per favore E come faccio a dirtelo Marci? Ascolta è un demone Ciao Fere come stai tutto bene? Ciao Marci male Sei stata presa male quindi Ma dove eri te? Siamo super nascondigli Ma perché siamo sempre io e Steph in finale? Basta Ma non è vero l'ultima volta vinto io cosa vuoi? Spero che io ho solo una vittoria e tu ne hai due e Marci ne ha uno Quindi alla fine stanno andando tanto Marci Io ne ho zero ma perché io il più delle volte poi collaboro con Steph Cioè io sono lì giusto per bellezza Sì sì E' la coppia E' la coppia Esatto Siamo separati ma in realtà siamo una coppia Spero che trovi Marci stavolta perché davvero vince sempre Vai Fere Esatto Decidi quale più illegale dei due Allora vengo anche io a decidere Facciamo una cosa Uuuu No vabbè Quello di Marci non è legit Ma come è legit? Vengo a vedere Guardalo Sì vabbè dai però Cioè ragazzi Marci comunque c'ha l'abilità di Perché quell'altro dov'è? Cioè quell'altro dov'è? Ma dai Dai ragazzi Allora Io farei una petizione Fere Fere Ascoltami un attimo Io farei una petizione Noi ogni volta Cerchiamo di rendere la cosa Più divertente per alle legit possibile Loro Loro sono i due cheater del gruppo eh Cioè è incredibile Io vi dico una cosa comunque Avete anche un nascondiglio relativamente simile Ok Vi dico solo questo perché poi ovviamente ci sente il demone più di così non posso dire Ma Fere hai notato che anche il demone sta citando? Come sta citando? Guardalo Ma lui è un demone gli è concesso Magari sono poteri Ha utilizzato il super potere il demone eh Sta anche lui in spettatore Ma poi c'è la forma in super saiyan? Ma come in spettatore? No ragazzi Eh già Eh già Ve lo meritate Il demone non ha regole ragazzi Siete voti Dovete giocare bene Esatto Secondo me io sempre abbiamo vinto entrambi Perché non li stai trovando No Io la rifarei questa Secondo me Cosa rifaresti? Valedetto Ma guarda te Ti sei nascosto No io non dico Stavo per dire dove ti sei nascosto ma sto zitto Guardami Stef secondo me abbiamo vinto entrambi Dici? Non ci trova Ma quindi dobbiamo uscire Anche perché lui continua a cercarvi dentro la casa Stef io farei un problema E quello è il problema Io farei una collaborazione e direi che abbiamo vinto entrambi No 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 Fere ma secondo me Il demone però Fere cosa ne pensi se aiutassimo un attimino il demone in chat No no Con degli indizi Eh no è brutto Secondo me il demone ci dovrebbe rendere Io però aspettate Io l'ho appena detto un indizio Ho detto che sta sbagliando a cercarvi dentro la villa Va vero Ma questo demone fa schifare nascondina Io esco fuori Basta Anch'io Io esco abbiamo vinto Sii Siete veramente assurdi comunque Io non ho parole Ciao demone Siete dei citer Io ero dentro un fungo Anche io Anche Stef Siete assurdi No stent'era dentro un albero Ok Un albero fungo Sient'era dentro un albero fungo Vieni Stef Qual era il tuo Fammi vedere Guardali guardali Perché io li ho visti entrambi erano una vergogna Siete vergognosi, dove c'era la crafting table, uno e l'altro dalla parte opposta No, no, qua dentro, in questo qua Aia, aia, ragazzi fermi, la chat Ho visto però per primo madamarci Ma che vittoria sarebbe Ma sto demore è fatti loro, si vede che c'ha gli occhi cavati comunque Allora, io sono d'accordo a dare il punto a Fere Perché avete citato entrambi Avete citato Sei un lecchino Vieni qua, vieni qua Vorrei dare un mezzo punto a me, Mark Per la partecipazione Il demone è qua, ragazzi, fermi Quindi chi vince, parità Io prendo il pareggio, non accetto la vittoria Pareggio Ma quindi ci ascolta pure Certo Se è nel mondo, certo che ci può sentire Io mi sento sempre Anche quando risultiamo Ma in schifo Demone Hanno citato Lei le difende Eppure Secondo me non ha potere di tirarmi un fulmine Il demone Ti pare normale come cosa Allontanati Dai, allontani Si allontani pure Tanto il demone è scarso Eh, quindi ragazzi hanno vinto Steph No, ha vinto Steph Ha vinto Marci Chi lo può sapere Vabbè, mi raccomando Scegliete uno dei video qua davanti Iscrivetevi al canale Col tastino rosso qua sotto Mi raccomando Iscrivetevi anche al secondo canale Che sta pinnato nei commenti qua sotto Da Mark è tutto ragazzi Ciao 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 Ciao